Consentite innanzitutto di esprimere il più coloroso complimenti al sindaco e alla comunità cittadina di Gioia per la realizzazione di questa struttura in cui assede il centro culturale di Gioia. In questo centro si possono fare molti incontri, per esempio a me piace in modo particolare sottolineare le lingue e questa sera ne abbiamo una piacevole testimonianza dell'interdisciplinarità dell'espressione d'altro. Stiamo parlando di Patrizio, stiamo parlando del suo rapporto con Gioia dei Massi. Ricordiamo le sue struggenti parole che attingendo la memoria ci rivelano le sue trepitazioni, con il suo animo e mentre facciamo questo, ecco, un'arte entra nell'altra arte, in un dialogo veramente coinvolgente per cui la musica e la visione in pratica entra nelle nostre povere parole che sono di memoria, che sono di testimonianza per fare in modo che ci sia uno stretto collegamento tra le cose che ricordiamo, gli impegni della nostra quotidianità, ma anche il sogno del futuro. il centro deve saper fare queste cose con la necessaria possibilità, le direi più intanto a livello, alla dimensione, alla qualità, che non alla quantità. ed ecco la iniziativa, il premio nazionale di poesia Patrizio Graziani. Per quello che Patrizio ha dato a Gioia dei Massi, questo, a mio parere, è un doveroso riconoscimento che sostanzialmente ognuno di noi si aspettava. Forse io, Emilio, sono stato un po' troppo insistente nel dire che bisognava operare una svolta. ecco qui, dopo otto rassegne di poesia, dove il paese, la natura, le cose, sempre in memoria di Patrizio Graziani e insieme al paese, alla natura, le cose, l'uomo, sono stati fortemente scandaliati con i moduli propri della poesia che si apparezzano in quelle ricorrenti recitazioni e con la musicalità del dialetto, per cui abbiamo ritenuto che sono maturi i tempi e sono mature le condizioni per quel salto di qualità, per cui l'incontro annuale del recitato di poesia si trasforma in banto di concorso addirittura dalla dimensione nazionale della poesia. Io ritengo che bisogna riconoscere che questo è stato possibile, che si deve questo. Innanzitutto, va bene, all'affetto filiale di Pierunigi e alla sua sensibilità culturali, perché non basta essere figlio per fare queste cose, bisogna essere figlio e bisogna navigare nelle vie della cultura per fondere insieme le due qualità, l'affetto filiale e l'amore per la cultura. E si deve anche all'intrappendenza operativa e alla creatività di un uomo di teatro, quale Emilio Rosselli, se questo evento si è iniziato.